Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Come avete visto dal titolo, questo è un video molto speciale, quindi se volete che io continui a postare video come questi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi su Instagram, io sono Martina Tazza. Avete aspettato questo video per tantissimo tempo e quindi oggi sono felicissima di potervi presentare una persona molto speciale che è qui con me oggi. Come ti chiami? Martina Katia Soprannome Tazza Il nonno mi chiama Bricella Bionda Quanti anni hai? 31 6 Cosa fai nella vita? Sono un'impiegata in una ditta che ha un sito internet che vende occhiali Vado a scuola 3 aggettivi per definirti Pignola Protettiva E Fumina Che da noi vuol dire che mi Mi scaldo presso, ecco, quando c'è una situazione che non mi piace tanto Sono abbastanza aggressiva, posso diventare aggressiva Abronzata Bella e forte Colore degli occhi Altezza e numero di scarpe Ho gli occhi marroni con delle sfumature verdi Sono alta un metro e sessantuno e porto il trentasette di scarpe Gli occhi cero neri Sono alta normale Il giorno più bello della mia vita è stato probabilmente quello più recente, il primo agosto 2020, quando ho conosciuto mia figlia Katia Però ci sono altri due giorni che sono stati bellissimi nella mia vita, sono stati l'8 giugno 2020, quando ho ricevuto la telefonata che mi ha fatto sapere di essere diventata mamma e il giorno del mio matrimonio, il 27 luglio 2013 Andare a scuola Una cosa che ti rende felice Mi rende felice guardare il tramonto davanti a casa mia la sera Sono felice quando sono l'estate La prima cosa che fai al mattino Al mattino dopo essermi preparata, preparo la colazione per l'intervallo della Katia e poi la vado a svegliare e insieme ci prepariamo Mi sveglio sempre tardi L'ultima cosa che fai la sera La sera dopo aver portato a letto la nostra bimba, le racconto una storia, le leggo di solito una storia, poi diciamo la pregherina, ci abbracciamo forte e ci diamo la buonanotte Il babbo e la mamma mi leggono e poi dico la pregherina Chi è il tuo uomo preferito? Non è facile rispondere a questa domanda, quindi dirò due, i miei due uomini preferiti che sono mio marito Riccardo e il mio babbo Mauro La mamma La tua materia preferita Quando andavo a scuola la mia materia preferita era la matematica Anche se ora sono appassionata di lettura e di scrittura, però la matematica mi è sempre piaciuta molto Mentre adesso, che sono un po' più grande, le mie materie preferite sono la mindfulness e lo yoga Tutte mi piacciono più Il tuo piatto preferito? Non c'è un piatto preferito, però tendenzialmente mi piace la pasta Le fragole Con la panna Piatto che ti disgusta I wustel Il zain piccante mi piace Il tuo colore preferito? Il verde e il blu Rosa E rosso Credi in Dio? Certo Sì Credi in Babbo Natale? Assolutamente sì Sì Ultimo libro letto Finché il caffè è caldo Il lupo più bello Che animale vorresti essere? Vorrei essere il mio cane Tuco Che è un bassotto Perché fa una vita meravigliosa Può stare fuori e gironzolare per la campagna E quando è in casa viene coccolato e sbaciucchiato di continuo Cavallo Film preferito? Grease L'ho visto un milione di volte, lo so tutto a memoria Scooby-Doo Ti piace disegnare? No, perché non sono mai stata molto brava Sì In vacanza Dove e con chi? In qualsiasi parte del mondo Con la mia famiglia E anche con la mia famiglia d'origine Quindi i miei genitori e le mie sorelle Con il babbo e con la mamma E con Tuco In campagna Cosa ti piace fare nel tempo libero se rimani in casa? Se rimango in casa Di solito Leggo Oppure guardo un po' di tv Oppure faccio yoga Mi piace dedicarmi alle mie passioni Con la nonna giocare con i barbi E fare il bagno E se esci? Nel mio tempo libero quando sono fuori Mi piace provare i nuovi spettacoli Insieme al mio gruppo teatrale Super Mario Assai a parco giochi E a volte sei sulla neve Ti arrabbi spesso? Sì Purtroppo sì Anche per delle cose Troppo piccole Per meritare la mia rabbia No Il tuo sogno più grande? Il mio sogno più grande al momento è Adottare un altro bambino E sei felice e contenti Ti piacciono gli animali? Sì Che squadra di calcio tifi? Non seguo il calcio Però Sono stata cresciuta con la fede viola Quindi fiorentina La Juve e la fiorentina Credi alla magia? Certo che sì Sì Ti piaci? Sì Per la maggior parte del tempo mi piaccio Sì Come ti immagini tra venti anni? Tra vent'anni io ne avrò cinquanta Quindi mi immagino con due figli Mi immagino sempre in questa casa E spero di poter vivere tra vent'anni delle mie passioni Quindi poter, diciamo, guadagnare dalle mie passioni Grande Come sempre Ho però un marito Farò anche la partiera Tutte e due Con quante persone vivi? Due Mio marito Riccardo La mia bimba Katia E vabbè Poi uniamoci anche il cane Tuco Con la mamma e babbo E con Tuco Gioco da tavolo preferito Cluedo e Pictionary Scalabeo Tutti i giochi Insomma Odore preferito Il mio odore preferito è il profumo della pomarola appena preparata Braude Canzone preferita Born This Way di Lady Gaga Quella dell'estate Karaoke Quanta namera Voglia di ballare Un re che mi spiace Voglia di avverti Dalle le braccia E una spiace piena Per fare tutto quello che non si poteva V-A-A-A-A-A-A-A Cos'è per te l'adozione? L'adozione è quella cosa che ci ha permesso di diventare una famiglia Di avere una figlia E che mi ha permesso di toccare il cielo con un dito Dozione cos'è? Quando il figlio non c'è la mamma e un babbo Poi il babbo e la mamma sono nuovi Lo vanno a prendere E poi lo portano a casa Quando vi siete incontrate? Ci siamo incontrate il primo agosto 2020 L'estate Cosa hai provato quel giorno? Ho provato un'emozione indescrivibile Prima di incontrarla Mi veniva da piangere E allo stesso tempo non volevo piangere Perché non volevo impressionare questa bambina Che ancora non mi conosceva E che volevo avesse una prima immagine di me sorridente Però in realtà poi sono riuscita a calmarmi Ed è stato l'incontro più bello Ancora più bello di qualsiasi aspettativa potessi avere Ricordi cosa indossava l'altra? Certo che sì Non potrei mai dimenticare che cosa indossava Katia Aveva una salopette di jeans Dalla quale spuntavano due gambe magre magre E super abbronzate Il vestito Con pallini uguali a me Bianchi i pallini E tutto il resto era nero Bianco e nero della Juve Cosa ti piace della tua vita qui? Mi piace vivere in mezzo alla natura Mi piace il fatto che posso nutrirmi dei prodotti che mi dà la terra E mi piace il fatto che non ci sia traffico E quindi ci sono dei momenti della giornata In cui l'unico suono è quello del canto degli uccellini Che ore sono? Per sapere Lo chiedo per sapere Considerando che lo chiede praticamente 30 volte al giorno E non sa ancora leggere l'orologio Ciccia baciccia Vieni qui dalla mamma Cosa vuoi fare da grande? Mi piacerebbe riuscire a diventare una scrittrice di professione La parrucchia Sei felice? Sì, assolutamente sì Sì Cosa fai quando l'altra non c'è? Quando Katia non c'è Di solito ne approfitto per guardarmi un film Perché raramente ho del tempo per poterlo fare Oppure una serie tv Che magari guardo da sola E quindi quando non c'è nessuno in casa Me la godo So con Babbo Con Babbo e tu O se no ho Babbo senza tu E non ci sono niente Io so con te Il nome del tuo migliore amico o amica La mia migliore amica è Chiara Vediamo se conoscete il Babbo Riccardo Milan, Inter o Juventus? Purtroppo devo dire Juventus Scusa Babbo Juventus MotoGP o Formula 1? Formula 1 tutta la vita La Formula 1 Gli piacciono i dolci? No No Quale strumento suonava? Il basso e il contrabbasso Io l'ho conosciuto come un bellissimo musicista Un bassista di un gruppo metal Quando aveva 25 anni La chitarra Chitarra Il Babbo come chiama Katia? La chiama Aspette Malandrina Trapolino Diteci quanto vi volete bene Katia io ti voglio bene Fino alla luna E tutto il cielo Mamma ti voglio bene Fino al mondo Ragazzi il video finisce qui Spero che il video Vi è piaciuto Katia Ma mi vuoi rubare la scena? Vuoi prendere tutto il canale? Allora noi ci vediamo prestissimo In un altro video Ciao 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 Grazie a tutti.